Svaliggiavano abitazioni isolate in Piemonte e prima di fuggire col bottino scattavano fotoricordo ai proprietari di casa che dormivano. Una banda di rapinatori è stata sgominata dai carabinieri che hanno notificato a Torino e a Genova quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre albanesi e un italiano, sottoposte a fermo altre due persone. Le accuse a vario titolo sono di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti in abitazione e di autovetture e ricettazione. La banda è ritenuta responsabili di almeno 79 colpi messi a segno tra marzo e novembre 2018 ad Asti, Cuneo e Torino. Con la cosiddetta tecnica del succhiello i ladri foravano i serramenti di una finestra con l'attrezzo da falegname e facevano scattare la maniglia con una pinza. Le indagini dei carabinieri del comando provinciale di Torino hanno preso il via nel 2018 stando a quanto accertato dagli investigatori i ladri alternavano i luoghi delle rapine spostandosi tra comuni e province molto distanti tra loro. Durante i colpi indossavano sempre passamontagna e guanti. Nel corso dell'attività investigativa sono state recuperate e restituite ai legittimi proprietari dieci auto e due pistole rubate e sono state sequestrate due pistole di fabbricazione clandestina utilizzate dalla banda per le rapine.